Con grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale come sempre nella partecipazione alla messa in campo di questo appuntamento, che è uno degli appuntamenti principi dell'attività culturale della nostra città, un appuntamento che quest'anno si struttura su più giorni, tra l'altro c'è l'inaugurazione domani, martedì 2, con la presentazione di un bel film e con la partecipazione per tutta la settimana di prestigiosi ospiti a partire da Carlo Verdone mercoledì, con una giuria che è fatta di grandi professionisti, critici, artisti, registi e attori e devo dire anche con una partecipazione di film molto numerosa e di qualità. Io la chiudo qui dicendo solo che il Comune di San Giovanni in questi anni ha continuato a investire in cultura e ha continuato a investire anche in questo tipo di attività e naturalmente anche in ristrettezze di tipo economico come quelle che soffriamo in questi anni, comunque appuntamenti di questo genere qualifiano una città di nome e la nostra sia da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista del richiamo che questa cosa può fare nei confronti di tanta gente che siamo sicuri in questi giorni per San Giovanni sarà un modo per presentare la nostra città e anche un piccolo aiuto alla nostra città. Sì, a tutti. Sì, a tutti. Sì, a tutti.